Auschwitz Non più esseri umani, ma solo spazzatura da liquidare, in fretta Il mondo è restato a guardarvi, inerme Oggi non vi piangono nemmeno E voi, quale consolazione avete mai potuto avere? Non bastano queste parole a ricordare Non spiegano, non lasciano sentire Cosa potrà mai darvi pace Se persino il vostro silenzioso fumo, salendo Non ha neanche arrossato gli occhi ai vostri carnefici Grazie